Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Allora, la previsione dell'ondata di aria fredda, che fino a ieri era affermata, oggi è stata leggermente cambiata. Comunque riuscirà parzialmente a raffreddare soprattutto le regioni meridionali, con termiche che saranno intorno a un grado o due gradi. Come si può vedere avremo un po' di minimi depressionari, in particolare uno che sarà molto attivo, che si andrà a formare vicino alla Sicilia, tra la Sicilia e l'isola di Malta. Come si può vedere dalla mappa relativa al 19 novembre, non mancheranno precipitazioni, soprattutto nella parte meridionale della nostra penisola, soprattutto in Calabria, a sud-ovest della Basilicata, nord della Puglia. Molise, Abruzzo, Marche, sud-ovest della Toscana, parte della Sardigna e anche da Sicilia. Come si può vedere dalla mappa, lo zero termico sarà intorno ai 2400 metri al sud Italia. Al nord sarà un po' più basso e ci sarà anche la possibilità di vedere delle navigate, però solamente sulle cive. a nord-est, nelle Dolomite, si potrà vedere anche sui 1000-1300 metri. Per ora...